Ciao creatura Io sono Megatisplendente E benvenuta, bentornata Nel regno di Con la I A S M A Mi è arrivata una mystery box Da un sito di make up E volevo aprirlo insieme a te E suagiamola insieme Sono tre prodotti Mi pare E il valore Ovviamente ho guardato Sul sito già E costa 12 euro La mystery box I prodotti sono 9 euro All'uno però arrivano Di colore random C'è questa Questa crema Cream color Che ho sbirgiato già Tra le altre ragazze E Sul sito dice che è per gli occhi Ma in realtà Si può utilizzare sia come Illuminante O blush Dipende dal colore Come ombretto E anche come rossetto Cream color Andiamo a vedere insieme Che colore è arrivato La colorazione è pink Flamingo Però Sembrerebbe Tendente all'arancione 07 Sto facendo anche dei video Con il telefono Così Se non si vede bene Dall'inquadratura Puoi Vederlo Dal Dal dettaglio Del video Ecco Del telefono Si E' un rosa Tendente All'arancione Secondo me Perfetto Per l'estate Voglio assolutamente Provarlo sui miei occhi Dato che Ho Un po' Di questo colore Nei miei occhi E' Super Mega Cremoso Questo è Il colore Tendente Al colore Oro Secondo me Potrei usarlo Anche come illuminante Dato che mi si è rotto Il mio Secolo Bello Secondo me E' un colore Bellissimo Per quest'estate Soprattutto con la bronzatura Bellissimo Non vedo l'ora Di utilizzarlo E lo proverò Probabilmente In un prossimo video Me lo vedrai addosso Perché lo voglio provare E Sulla mia carnagione Poi vabbè Fa un certo effetto Poi bisogna vedere in faccia Ha contato con i miei occhi Mi piace molto Farò un albre Anche col telefono Perché non so Appunto Cosa si veda Dalla videocamera Poi ho trovato Questo Lipstick E Due lipstick Uno metallic 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 shine E l'altro Non so Leggerlo Non so Leggerlo Allora Andiamo a vedere Questo Questo è Zero Otto Love Hate Love Hate C'è Sembrato per me E questo invece È Sarah Gold Numero 10 Devo dire che il packaging È molto estetica Wow Che bello Non ha alcun odore Se ce l'ha È proprio Impercettibile Mamma mia Io non ho mai usato Mettermi un colore del Jerry Sembrerebbe una specie di arancione Tutto sui toni dell'arancione Mi hanno mandato Se smettessi di tremare Magari Molto morbido E cremoso Lo proverei Mi metterà in un video Perché voglio provare Sono colori che non ho mai Non ho a casa E non l'ho mai provato Quindi top Invece questo È l'altro Rossetto Lipstick Metallic Shine Lipstick Anche questo è molto curioso Numero 10 Sarah Gold Tutto dorato E' l'essenza delle impronte digitali Mi piace perché Ha la colorazione che di solito Io utilizzo Quindi questo sicuramente Lo indosserò tanto E ha tutta la marca Ulac Scritto Incisa nel rossetto Bellissimo Questi sono i dettagli Che mi piacciono Andiamo a sentire la sua morbidezza Andiamo a vedere il colore Wow Che bello Wow Ma si sprigiona anche L'effetto metallico Questo lip Metallico E questo Ombretto Ma secondo me È più un illuminante Questo ombretto qui E questo qui Ci sta andando a dire Voglio farci troppo make up Questo lipstick arancione Non so Sulla mia carnagione E per i miei gusti Quanto riuscirò A indossarlo Però Se troviamo L'abbinamento giusto Ovvero Magari con Del marroncino E un blush Quello Tipo di Style Che è molto Aesthetic Molto leggero Potrei anche Riuscire a farci Qualche make up Anche se i miei preferiti Di questa mystery box Sono appunto L'ombretto Parra Illuminante E questo Metallic lipstick Che è la fine del mondo Bellissimo Perché è una mezza via Tra Il colore che uso io E una cosa un po' più Lucicante Bella E Bene Io direi che Questa Unboxing Anche se Mystery Non è andata Così male Ti ringrazio Per aver visto Questo video Anche se breve Fammi sapere Quale di questi Ti sono piaciuti Di più Quale Se hai qualche consiglio Anche su come Abbinarli Con tutta la roba Che sa che ho io Quindi C'è Proprio Una scelta infinita Secondo me Anche tu Apprezzerai sicuramente Il lipstick Metallic E questo Ombretto Sono sicura Perché ormai Tu hai Ai miei gusti Creatura Mi dispiace Solo che questo Sia lucido E restano tutte le impronte Giuro che non ho Le mani oliose Però Sembra così Invece questo Essendo opaco E allora Questo packaging È bellissimo Per caso che Preveresca quello Che c'è qui dentro Comunque sono Però voglio provarlo Prima ovviamente Di bocciarlo E non ho ancora provato Sulle mie labbra Ehm Lo vedrai In un prossimo video Su di me Così Valutiamo Se E' stato Un buon affare Ehm Iscriviti al mio canale Lasciami un like E Commenta Ti ringrazio Sempre Per Essere In mia compagnia Per aver scelto Il mio canale Grazie 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 Creatura Ehm Come sempre Ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Buon relax Peon relax Grazie a tutti.